andiamo, mi ha portato il frigo proprio, certo che ce l'ho non il tuo frigo, ne? andiamo che dopo c'hai da riposarti, su dai indietro le ginocchia larghe, allarga le gambe gambe larghe gambe larghe, le ginocchia devono essere fuori, cazzo gambe larghe, culo indietro 3, 2, 1, via! muretto degli strisciacappelli qua, va qua al lato il cazzo qua! oh, eh caro mio, a me mi è costato un annegamento qua quei sassi di merda qui, oh tutti qua sono questi sassi, tutti qui, tutti criviati ma va, te la dritti e futa eh! gira, così, viri fuori qui 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti arrendi, se ti arrendi devi andare fuori di lì. Va bene. Grazie a tutti. E ma dove provi il cazzo? Quello lì ci scivola perché devi fare quello in mezzo. E ma mi piace. E ma sei in mezzo perché c'è la sabbia? Era duro ci provavo. Perché gli dai qua e il motore spinge. Tutto? Sì, ma non mi piace. Non mi piace perché c'è la sabbia. Quando gli dai scava. Mi piace no. Direi.